Oggi vi vorrei raccontare brevemente quello che è il nostro stand che come poi potrete vedere è suddiviso ad isole e rappresenta ogni isola una soluzione per mercati verticali. In particolare in questo momento ci troviamo nell'area diciamo corporate con quelle che sono le nostre soluzioni della famiglia OneQuick adatte a svolgere funzione di monitor e prodotti che aiutano l'utente a sviluppare visualizzare sui monitor non solo diciamo contenuti ma anche a interagire quindi sono soluzioni touch con telecamera inclusa per eventualmente usufruire anche di videoconferenze. Possiamo vedere quello che è il nostro led 136 pollici only one quindi un prodotto full HD che noi definiamo only one perché arriva praticamente già premontato e preconfigurato. Sistema operativo OLG integrato e quindi in pochi minuti avere a disposizione uno schermo pronto all'uso. In questa area del nostro stand potete osservare un'installazione molto interessante per quanto riguarda il led wall quindi in questo caso abbiamo realizzato un prodotto che va a sostituire completamente i pannelli da 55 porti LCD quindi con un cabinet di dimensione 54 pollici vado a fare uno swap totale di pannelli da 55 LCD con tecnologia LED quindi elimino totalmente quelli che sono i bordi e quindi le righe che si formano unendo dei pannelli andando a creare invece un wall completamente pulito con tecnologia LED senza andare a intaccare la mia infrastruttura presente dietro i pannelli quindi ottimizzo anche i costi. Abbiamo sviluppato con Userful che è un'azienda che sviluppa soluzioni per control room un'applicazione web base in cloud in cui è possibile condividere su un unico schermo diverse segnali d'ingresso e quindi condividere in maniera semplice e veloce diversi segnali e quindi applicazioni a bordo monitor.